Attenzione al riquadro designato! Attenzione al riquadro designato! Stai raticolato! Stai bene! Le forze nemiche hanno conquistato una ruota! Grazie mille! Attenzione alla mappa! Il nemico ha preso l'iniziativa! Il nemico ha preso l'iniziativa! L Candide, è stato l'iniziativa! Attenzione alla mappa! A presto! Il tuo armato amico è stato distrutto. Molte grazie! Sul messaggio! Qualcuno mi copre! Ho bisogno di copertura! Si! No! 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Le poste nemiche hanno conquistato una zona! Molte grazie! Dai, continuiamo a fare pressione! La vittoria è vicina! Attenzione alla mappa! Attenzione alla mappa! Attenzione alla mappa! Attenzione alla mappa!